Anche la macchina fotografica non riesce a percepire che sta andando giù è quasi a metà qua vedo sempre una sfera tonda o sono io che sto perdendo l'uso della retina bello umido, un po' rulento speri che ci riflette Paola vieni un attimo qua vuoi mettere un po' lì? vorrei l'aspetto non vi ho cazzato è già ovale naturale è come al solito fai il conto che fa Vareta abbia detto una cosa di quelle tipo la macchina da scrivere che forte secondo te si percepisce Stefan nell'obiettivo no una sfera infuocata che rimane a un certo punto andrà via e boom eh scusa il navigatore che mi dice di andare su di qua ma ci arrivo sicuramente eh sicuramente che la c'è resto con la cassa di macchina di spazio aiuto chiediamo un po' alla Paola che magari ne sta a un'altra parte questa è la tua buona spalla questa è no questa è quindi quanti vai no ci manda sul salvo eh perché non sbaglia l'unica cosa che devo sapere è questa è una carcassa di animale l'ultima che ha fatto la strada non è non si è trovata benissimo è la seconda volta che mi scusarei qui qua in quella cassa di stradina più probabilmente portaci lei perché anche l'altra che faccio è stata sterrata però è più bella c'è da fare un guado due guado però non ci pare è una carcassia di portugano ma io credo che con la linea lì fosse la linea del bar invece no invece sarebbe immersa ma è un effetto più spazio ecco perché allora la mia macchina percepisce sempre la sfera perché è ancora lungi bello è venuto bene tra volte questa qua questa che non so come è sono io con la fotocamera quella che sta piccola e piccola no e adesso inizio ad andare sotto effettivamente ciao arrivederci bello salto quelli del posto vengono tutte le sere qua va bene però ha fatto bene perché se si imbedinava già di qua l'ultimo che ci ha provato è ancora via sefano sei il tuo navigatore che ci ha provato è ancora via che ci ha provato che ci ha provato che ci ha provato che ci ha provato Il navigatore non sbaglia mai, te l'ha detto, sei pazza, sei pazza, quando posso comodamente tagliare con la scortatoia. L'ultimo che ho fatto della strada è lì, non aveva fatto molta strada, lì sono stato. E' veramente un imbecilo e mi espina attrazione integrale. Ma che meraviglia! Aspetti veramente due minuti? Vabbè, dove stai là? Non si capisce esattamente, vero? Guarda, come si mette così poco? Perché in effetti è sempre più vero, è sempre più vero. Ti accorgi? Ciao! No! No!